Una calda mattinata d'inizio luglio ha accolto questa mattina in Abruzzo il leader della Lega Matteo Salvini arrivato nella nostra regione per promuovere il referendum sulla giustizia. Prima tappa Pescara dove in piazza Primo Maggio è stato accolto da diversi militanti oltre che dallo Stato Maggiore della Lega Abruzzo. Ce la facciamo, c'è stata una risposta popolare incredibile in un solo weekend di luglio con 40 gradi più di 100.000 firme in tutta Italia. Da oggi è possibile firmare con calma e al fresco in tutti i comuni italiani e quindi l'obiettivo del milione di firme secondo me sarà ampiamente superato anche perché è un referendum non di partito, di giustizia, processi rapidi, certezza della pena, chi sbaglia paga e quindi abbiamo visto giusto. Ringrazio la Lega e ringrazio il partito radicale e ringrazio tutti gli italiani che arriveranno da domani in avanti, c'è tempo tutto luglio e tutto agosto. Non è mancato ovviamente un accenno alla nostra regione, in particolare alle prossime amministrative e al lavoro dell'Aggiunta Marsilio. I PD e i 5 Stelle vanno divisi sostanzialmente dappertutto. L'obiettivo è che la Lega guidi un centrodestra compatto nel cambiamento. Cambiamento a Roma, cambiamento a Milano, cambiamento a Napoli, cambiamento a Torino. Quindi queste firme sulla giustizia mi dicono che c'è tanta voglia di cambiamento. Meno tasse, meno burocrazia, certezza della pena e i sindaci giusti al posto giusto perché i fondi europei verranno spesi soprattutto dai sindaci. Quindi avere sindaci onesti e competenti sarà fondamentale. Sono contento, sono contento soprattutto del ruolo della Lega, dei consiglieri e degli assessori della Lega. Io sono un perfezionista e chiedo di più. Chiedo di più soprattutto sui temi del lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. L'emergenza dei prossimi mesi sarà tutelare lavoratrici e lavoratori. Gli imprenditori mi chiedono di rivedere il reddito di cittadinanza perché il reddito di cittadinanza invece di creare lavoro sta creando problemi e lavoro nero. Salvini ha poi parlato del problema della soppressione di quattro tribunali abruzzesi. La Lega si batterà, ha detto, affinché tutto questo venga sconciurato. La riforma della giustizia prevede anche che dobbiamo investire in personale, in cancellieri, in giudici, in giovani magistrati e in strutture. E in strutture perché chi in passato decise di tagliare scuole, ospedali e tribunali non fece un buon servizio.